Please approach SCP-173 for testing. To be continued... Dopo più di un anno, un anno e mezzo, che non porta più delle top, si comincia a portarvi delle top 3, top 5, top 10 e così via. Già ve ne avevo parlato in qualche video informativo fa che avevi ricominciato questo tipo di contenuto. Allora, iniziamo subito. Al terzo posto abbiamo Aptoid, come applicazione alternativa al presto per scaricare giochi sia a pagamento che gratis. Non la uso più ormai, c'è l'unica store che adesso vi dirò, lo sapete comunque alla fine. Comunque, diciamo che non lo uso più questa applicazione perché comunque la maggior parte dei giochi non funzionano praticamente. Infatti, motivo per cui non uso più questa applicazione io. Per farvi un esempio, cercando per esempio GTA, dovrebbe trovarvelo in teoria. Ecco qua, GTA vs City, GTA San Andreas, per farvi degli esempi. Dopodiché abbiamo Al secondo posto, come store alternativi al Play Store, abbiamo AppVN, dovrebbe essere. Scusate, errore mia, AppVN, abbiamo AppVN, dovevo aggiungerla anche in questa top, ma quanto per l'applicazione l'hanno disattivata. AppVN pure io non la utilizzo. Non so se l'applicazione funziona o meno, facciamo sempre un esempio con GTA, vediamo se lo trova. Direi che non trova una mazza. Non so, forse è meglio quanto parattolo che questa applicazione. Proviamo a cercare in un altro modo. E no, non trova nulla. A quanto pari forse è meglio app Toddy che questa. Comunque, al primo posto, come applicazione alternativa al Play Store, abbiamo Al primo posto abbiamo l'applicazione Happy Mode, che a mio avviso da circa due anni è la migliore app alternativa al Play Store, però è sul mercato. È molto intuitiva, si trovano quasi, non quasi, una buona parte dei giochi, alcuni funzionanti, altri no, però rispetto ad AppToddy qui i giochi ce ne sono di più che funzionano. Per farvi un esempio, cercando per esempio Roblox, avete la possibilità per esempio di trovarlo in questa applicazione moddato anche. Ovviamente questa è una versione vecchia perché col tempo poi metteranno gli aggiornamenti anche delle versioni moddate. Alcune versioni moddate però non funzionano più perché non sono più aggiornate. Però per farvi un esempio di scaricare sempre GTA, come vedete qua abbiamo le mod di GTA San Andreas più la versione classica. Anche se, come vedete, 15 MB è sicuro che non funziona questa. Ovviamente se sto facendo questo video di top non significa che non porterò più le guide. Diciamo che questi sono solamente consigli di alcune app alternative per scaricare con quei giochi a pagamento gratis. Ma ovviamente le guide continueranno, quale è sicuro. E niente, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, se il video vi è piaciuto ovviamente vi lascia un mi piace.